Eh babbo Vai torcici Allora Bracere No ma che cazzo Ma che cazzo per te Mi ha messo no spice No spice è proprio Eh è per quello Mi leva un ciccinino Ciccinino dovevo buttargli tre colpi per ammazzarlo io Roccia tomba Mi leva a metà vita Eh grazie a te Anzi più della metà Beccata Eh roccia tomba due volte Eh dai attacca Non è molto efficace beccata Figurati io ho levato uno sputo Uh questa nota non è in pannocchia Fabio mi passi il trigo un attimo Eh vabbè Smiggle con falso finale è molto utile mi dico Ok usiamo rals confusion che non le facciamo niente Perfetto vai sidot Vai con pazienza Questo bacon se non avrebbe tutto con l'attacco speciale sarebbe buono Bacon? Ah lo voglio Non gli serve la tacco speciale Un attacco antepisico Allora l'ultimo epoce E ce lo mette nel boost del beast Roccia tomba Ok Niente ragazzi ci facciamo prestare il pokemon da Fabio Marta Marta E siamo a due Eeeh Grovile Ah ok Hermesico 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 Ah io entro tu esci E facciamo a cabbio vai Perfetto 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 Scambia Accetto scambio Blocca il giocatore vai Allora Il tuo Joshmish Eeeh Eeeh E' già fatto Lista bloccata Ah ok Non dovevo bloccarlo Eh no Ah no Mettiti qua Mannaggia Non è entrare C'è la parola Poi lo metto tra item Voglio vedere No eh The requested pokemon Cannot be treated Because It was a gift Ah non posso Scambiarlo Ah ok Ah beh Facciamo in un altro modo Ok si Beh Aspetta Proviamo a vedere Se sarei di livello Così Eh beh Non siamo identici Ma perché Ti dà l'esperienza Di pokemon Con il duello normale Non lo so No mi sembra di no Proviamo subito Allora Fight Taglio fuori Ho lasciato Unicolporanza In due E' il colpo critico Siamo simpatici No No non ti dà l'esperienza Ok Ah che palle Però tu ti rifai La strada Ma come Eh vabbè Non vale Sì Lo capi vai Boom Morton No cosa Ehi Morton Porta Ah si Ah si Ti mostrerò Il mio pennuto Non ci tengo Grazie Eh Non ho detto Eh Vabbè Che Torcico P Non è più Sinod È Torcico P Ma lo so Che ci aiuto Focola Non c'è bisogno Che me lo dici Eh vabbè È Torcico P Non ho te Che brutto Sbadiglio Vai vai È l'unica mossa Che può usare No c'è C'è graffio Mi sa che sei tu Che ti fa la strada Che voglia Ma me lo devo fare anche io Perché devo curare i Pokémon Allora Come cazzo faccio a battere Quello lì Se mi cambio quei Pokémon Ti devi far salire L'ottimo Torchic Di un livello E qua mi pare che c'è L'erbetta Vediamo subito No c'è una sfera Ok Che vediamo subito Che cos'è La difesa No No Stavo più avanti Stai faccio salire anche il tuo Jrojmish Ho trovato una super pozione Allora ragazzi Facciamo un attimo salire Sto Pokémon Allora Allora Ok Allora Andiamo in su Adesso Sì Ok Ah poi ci siamo persi Allora Quando arrivi al fondo della città Gira a destra Ok A meno che non vuoi una super pozione Trovo da repellente Un repellente Ma va a cacca Errba Dai Slaco Tu diventerai fortissimo Che livelli ti volvi Aspetta che vi È possibile trovarlo nell'erba Non si trova solo nella grotta Sì anche mi ricordo Come si trova Le cose strambe accadono E strambamente Questo zigzagong S'adormenterà Allora Slá Slá Annaggia Slá Accorda Sì vabbè Come si spende Oh Tilelove Sì ma è femmina Quindi non mi servono Né merito Minzega Perché? No Non mi piacciono Pokémon femmina Ah va Troppo scarsa Ah va Non è vero È uguale Oh Torchic Si sta evolvendo Mbapà Vigrot Si è volto Vigrot Il 18 Slaking Ha un botto di attacco Solamente che Ci ondola per un turno Gratulazione Your Torchic Evolvente Come again Thank you Thank you Doppio calcio Ah tu intendevi Per questo? Eh sì Doppio calcio Lo mettiamo al posto Di Turbo Sabbia Piano piano Ce la farò Ad arenare Slakot Sarà un'impresa impossibile Adesso Vado a rompergli il culo No Faccio tagliere Chosmich Abra Abra E ora C'è Pokéball È vero Io non ho Pokéball No Cigliolo e Pokéball Ma A parte che è femmina Ancora Non cambia nulla Sì Le statistiche La Pokéball O la Megaball Se non lo prendi Non l'ho preso Porca puttengia Mi devi aspettare Eh ma si teletrasporta Su schifo Infatti Ma fa culo Dai Questo gioco diventa una parolaccia unica Io sto pensando Se è più letto Magical Po Slakot A combattere Ma Slakot salta un turno Quello è il suo problema Eh ma anche l'ultima evoluzione Con la rapporto è brutta Ed è forte Abbiamo a quella Almeno con un attacco Tiri giù Eh più o meno Il mio c'ha l'attacco speciale Poi Ben assorbimento A zigzagoon Non fa più effetto Ah no C'è dai 20 a 31 ev Nice È buono Eh che vuole? Colpo critico addirittura A me non succede mai sta cosa No Contro di me non è successo Ma ti parlo Eh beh Veselo una volta C'era una pokeball Ragazzi aiutateci voi Non ce la facciamo più Donateci una pokeball Voglio entrare Non voglio uscire Donateci una pokeball Per un Abra teletrasportoso Ecco Grazie Vabbè Che è sta musichetta Quanta è brutta Eh dai però Non entrare mai Mai a pokemarket Te lo consiglio Finito dalla canzone Bruttissima Cos'è? Storbimento Oh ma perché mi fallisce? Ma è stronzo È il tuo pokemon Ed è pure morto Ah fancute Ah è normalissimo No perché quelli del timidro Noiosi Sai cos'è l'unica cosa Che sto sperando? Sì? Che ora non esca Esmeralda beta O cose così Di questo? Ah no Di 3DS Ah è buco Quello sicuramente Ucirò Mennaggio No perché altro Perché a questo punto Non mi compravo Rubino Vabbè che vuol dire Io brisdutti Hai fatto la collezione Eh sì Eh sì Vabbè facciamo a turno Io cosa sostituisco Slut con Telo E quello sostituisce Wurpool con Linkada Allora ci ritentiamo adesso Contro Petra Ora che ci penso Sai cosa è la parte brutta? Dimi Il mio showroom è inutile per te Non ti ascolterà mai Eh infatti Quattro volte mi ha missato Ora ci ho pensato Eh vabbè Mi hai imparato a ripeti Slut con Tapposo Ora vincerò tutte le partite vai Allora assorbimento Mi chiedo tutto qua Sassata Va bene Non ce ne frego un cavolo Per efficace E va bene L'abbiamo rispedito A quel posto Dove non si dice Adesso richiama Sto cavolo di Geodude E mette il nuovo spazio Perché questo qua Mi sfido con un Charmander Ah no Nel senso Che cacchio vedo io Sappi appena troviamo la pensione dei Pokémon ci facciamo fare gli ovetti eh Sì sì Così tu hai i Torchi Ma poi si può cambiare il Trico Eh infatti Eh ma bisogna trovare diritto però No vabbè Non per forza con diritto Possiamo farlo anche Tra i vari Pokémon che si possono copiare Tipo magica Però non puoi copiare Certamente con un Con uno Slakington Ok allora Non lo spazio è andato A farsi fotte Oh George mi ha il livello 9 Ha imparato a pararsi seme Che culo eh È veramente buono Dai Geodude Qua ti ha rilassato T'ha letto Ragazzi Dopo 7 minuti Siamo riusciti a battere Sta cavolo di palestra La prima medaglia Ah no c'è un altro Geodude Portacci Così che perde Non me ne era accorto Che c'è il terzo Un pesciolinto Un pesciolinto Basta Ho vinto Nice Nice Cambuscan Bene ragazzi Abbiamo conquistato La prima medaglia E Cambuscan sale Anche a livello 17 C'è un pesciolinto Ah Fabio Vieni qua che ti rendo Il tuo Pokémon Eh aspetta Che c'è sto Pokémon che sta rompando Sì va bene Riceviamo la medaglia Ogni volta Che Robbole ha gonciato Pesciolino Ah ecco qua La nostra medaglia La vedete qua La vedete La nostra prima medaglia Abbiamo 3.556 Dove 2.000 Se ne andranno Soltanto per 10 Pokéball Perché ripeto Nel prossimo episodio Voglio catturare Abra Qui Qui Dimmi Dimmi Où stai Où stai Qui Oh Qualcuno sta scappando Qui Dimmi Où stai Fuori dalla palestra Ah già Sto zola Sto zola Sto zola Sto zola Sto zola Sto zola Cambia Devi Devi curarlo Prova Eh vabbè Moni Incade in cambio No grazie Ma che bello Che mi segui Adè che al 20 Se lo tieni Con un posto vuoto Ti da anche Ninjask Eh lo so È qualcosa Immortale Se non c'è Una massa Super efficace Eh sì Da una parte serve Però voglio Che farlo Crepa subito Instant Ergo Tu te ne vai dentro Che cosa Pronto che Con un buscan On the forest Dai Come un robot Ah ok Allora 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 Qua se ci dici Che è stata rubata La merce Devon Sì Quindi dobbiamo Andarla a recuperare Però lo faremo Nel prossimo episodio Eh già Anche perché sono 30 minuti di video Quindi faremo Dei tagli drastici Dove è scomparso Ah ecco Qua 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 Bene Noi ci fermiamo Qua Proprio qua 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 Abbiamo le poperelle pure Ok Bene ragazzi Speriamo che il video vi sia piaciuto Anche perché non è stato moce Abbiamo parlato tutto il tempo Abbiamo riso Scherzato Giocato Urlato Fatto Dispatto Mi son fatto battere due volte Da un'allenatrice inutile Che non si chiama più Petra Ma si chiama Roxanne E mi raccomando Spolliciate Commentate E condividete a manetta Da Kimbonanos è tutto E da Zazola è tutto Ciao a tutti ragazzi Perchè sono diventato Zazola adesso Mannaggia Ok ok Mi chiamo così Ma te che ti chiami Zayun San Cioè tutti lo sanno Però nessuno lo sanno Eh ma pensano Ciao a tutti ragazzi Ciao ciao